Si assiste a una continua diminuzione di casi di tumore del polmone nei maschi e purtroppo un continuo aumento di tumore del polmone nelle donne e questo è chiaramente indicato a un diverso rapporto nei confronti del fumo. I maschi, che generalmente sono molto più superficiali quando si parla della propria salute, invece in questo caso sono stati più attenti, stanno smettendo di fumare e questo purtroppo non avviene per le donne. Fumare fa male, questo sembrano aver capito gli uomini veneti, meno le donne che in questa triste classifica superano i maschi. Anche per questo motivo torna per il secondo anno di seguito la manifestazione Esci dal tunnel Non Bruciarti il Futuro. Il 14 e 15 maggio in piazza Cavour sarà posizionato un tunnel di 14 metri a forma di sigaretta con un percorso per conoscere i pericoli del fumo. L'anno scorso a Padova c'è stata una particolarità, il 48% di chi è entrato all'interno del nostro tunnel aveva un'età compresa fra i 15 e i 24 anni. Questo ha sottolineato l'importanza di una campagna di prevenzione primaria proprio in un'età, in una fascia giovanile ed è principalmente per questo motivo che abbiamo deciso di tornare in questa città. Un'iniziativa che vuole mostrare quali sono i danni legati alle sigarette, vizio che negli ultimi anni si è diffuso sempre più tra donne e giovanissimi. Nella maggior parte dei paesi europei la popolazione intorno ai 15 anni fuma di più rispetto alla controparte adulta, quindi è proprio su questa fascia di età che bisogna andare a lavorare, innanzitutto impegnandosi perché non venga approcciata la prima sigaretta e aiutando a comprendere quali sono i meccanismi e i processi per interrompere questa abitudine.